Spesso mi capita di ricevere messaggi da parte di persone che vogliono fare investimenti nel settore immobiliare, non sono interessati a imparare a diventare degli investitori immobiliari ma hanno dei capitali da mettere a disposizione di chi fa già questo mestiere. Quindi mi contattano e mi dicono Giuseppe, guarda, ho visto la tua attività, mi piacerebbe investire nell'immobiliare, ho questo capitale a disposizione, ti interessa operare con me? Svolgendo questa attività ormai da più di 17 anni, ho iniziato da oltre 5 anni a lavorare esclusivamente con capitali di terzi, quindi io faccio proprio questa attività, le persone mi danno i loro denari e facciamo l'operazione insieme, però ho una lista d'attesa, a oggi circa sono 12 mesi che bisogna attendere per poter finanziare una delle mie operazioni e questo spesso sconforta le persone interessate a fare questo tipo di investimento e magari mi dicono ok Giuseppe ti ringrazio ma non ho voglia di aspettare 12 mesi per entrare su una tua operazione e quindi vanno a cercare altri investitori. In questi casi do sempre 3 suggerimenti per far comprendere al meglio come selezionare l'eventuale investitore al quale dare il proprio denaro. Il primo sono i risultati, senza dubbio è importante sapere quali risultati riesce a portare a termine questo investitore, però non parliamo di risultati detti a parole, sono gli atti, i rogiti che parlano, quindi se tu deciderai di dare il tuo denaro ad un investitore immobiliare è giusto che gli chiedi, ascolta ma negli ultimi 12-24 mesi quante operazioni hai fatto, mi fai vedere gentilmente i rogiti a quanto hai acquistato e a quanto hai venduto, in questo caso potrai capire esattamente se questa persona svolge realmente questo tipo di attività e quali margini riesce a ricavare durante le sue operazioni di investimento. Il secondo è l'esperienza, è importante capire da quanto tempo questa persona opera nel settore, diciamo che se è un anno o due anni che opera io ci starei un pochino attento, mi rivolgerei principalmente agli investitori che lo fanno da 5, 10, 15 anni, questo è anche una garanzia di sicurezza perché se questa persona fa questo mestiere da molti anni va da sé che riesce comunque a continuare con questa attività ed è comunque un investitore profittevole perché altrimenti avrebbe sicuramente cambiato lavoro. Il terzo è l'utile. Questa è una parte delicata e molto importante, la divisione degli utili naturalmente deve essere stabilita prima, quindi dovrai concordare con l'investitore quanto dividerete alla fine, ma posso dirti che chi è un professionista non scende mai sotto il 50%, quindi ipotizziamo di aver guadagnato 10.000€, 5.000€ rimangono gli investitori di capitale e 5.000€ passeranno all'investitore che ha svolto l'operazione. Stai molto attento se trovi degli investitori che ti dicono ok va benissimo anche se tu tiene una percentuale più alta del 60-70%, questo determina un problema per quanto mi riguarda perché queste cose vengono fatte quando si è all'inizio, quindi si è disposti a contrattare e cercare di prendere qualcosina meno, ma quando si è realmente affermati, quindi si ha una solidità e una stabilità, non si scende mai sotto il 50%. Bene, ora hai qualche strumento in più per valutare la persona alla quale deciderai di dare i tuoi capitali. Sappi comunque che gli investimenti immobiliari, come tutte le tipologie di investimento, comportano un rischio, quindi la responsabilità di quello che farai è comunque sempre e soltanto la tua.